Vi faccio un esempio. Immaginiamo di dover dedicare tre lezioni, quattro lezioni, non lo so, quello che dovete fare voi al nome, va bene? Dico il nome ma potrei dire qualunque altra parte del discorso, naturalmente o qualunque altro oggetto rappresentato da parole. Noi possiamo anche partire dal dire il nome è quella parola, per favore evitiamo di dire parte del discorso, se possiamo dire parola è meglio e naturalmente sceglieremo di adoperare la parola parola privandola della sua complessità. Non faremo una distinzione fra parola grafica, parola, è una parola, parola fonica eccetera eccetera, è una parola che serve per indicare persone, animali, cose o concetti eccetera eccetera astratti. Ora, a parte il fatto che non so voi, non so voi, ma io la distinzione fra nomi concreti e nomi astratti ancora non l'ho capita bene e questo viene registrato perché insomma poi non vorrei che il presidente Marazzini mi radiasse dall'accademia, ma il problema è un altro, il problema è l'utilità di una simile distinzione. Allora, allora vi chiedo, vi chiedo, per far acquisire, per fare in modo che un ragazzo interiorizzi il concetto di nome è meglio che impari questa definizione o è meglio che svolga un'attività come quella che vi sto presentando? È una delle tante possibili e lo dico perché è inutile, guardate, io ho fatto un sacco di grammatiche per le scuole resta il fatto che la migliore delle grammatiche possibili siamo noi. Allora, prendiamo una canzone, ci facciamo dire dai nostri studenti una canzone che loro conoscono a memoria va bene? Facciamo una che conosciamo a memoria noi adesso perché è meglio, allora prendiamo Vita spericolata di Vasco Rossi, d'accordo? Oh, almeno quella ci piace a noi, quindi va bene. Allora, immaginate un close di questo genere, tolgo dal testo, loro questa canzone la conoscono a memoria e io tolgo dal testo creando un close tutte le parole che sono nomi, quindi voglio una puntini puntini spericolata, tolgo guai e tolgo tutto, no? Riempi i vuoti, tutte le parole che avrai inserito sono nomi. Se io faccio un'operazione di questo genere, no? Io faccio, non una volta naturalmente ma in più occasioni, io faccio in modo non che il ragazzino impari a memoria la definizione di nome cosa che non mi interessa assolutamente ma che sia in grado di interiorizzare il concetto di nome se poi non mi sa dare la definizione teorica di nome, ma sa maneggiarlo il nome, che mi importa? Ecco perché ho fatto una distinzione tra esercizi di riconoscimento e esercizi di applicazione esercizi concreti. Ora se voi ci fate caso, se qualcuno di voi, poi vi do qualche indicazione, ha avuto per le mani un corso di italiano per stranieri, si accorge che lì gli esercizi sono tutti organizzati in questo modo. Questo che cosa vuol dire? Che noi dobbiamo buttare le grammatiche che abbiamo deciso di adottare? No, beh insomma, spericolato sì, però suicida proprio no, perché ecco, dobbiamo usarle con intelligenza, no? Le grammatiche sono ormai degli strumenti ipertrofici, ve lo dico da autore, ve lo dico da autore. Io devo litigare col mio editore perché vuole, voleva ormai si è rassegnato, che, professore, lei ha fatto il capitolo sull'analisi logica e non ha messo il complemento di rapporto. Io non lo so che cosa sia il complemento di rapporto. Ecco, ma poi devo chiedermi, devo chiedermi e devo chiedervi, fatta salva una serie di concetti fondamentali sui quali potremmo spendere tranquillamente sei mesi della nostra attività e cioè il concetto di soggetto, il concetto di predicato, il concetto di complemento oggetto e il semplice concetto di complemento indiretto preposizionale. Lo studio del resto del carnevale dei complementi, l'immagine non è mia, è una splendida immagine di Michele Prandi, lo studio del resto del carnevale dei complementi, quale vantaggio ha? Cioè in che modo il sapere che quello è un complemento di causa efficiente piuttosto che un complemento d'agente consente ai nostri studenti, a tutti i nostri studenti di usare meglio l'italiano parlato e scritto. Ma serve per il latino, allora è un affare dell'insegnante di latino, allora è una questione dell'insegnante di latino e siccome a scuola vi capita di litigare per molti motivi con i colleghi e con le colleghe, litigate per un motivo intelligente, abbiate pazienza. Tanto, tanto, lo dico in particolare alle colleghe della media inferiore, insomma avete capito, della secondaria del primo grado, qualcuno che dirà o qualche genitore che dirà è professoressa ma lei non ha fatto questo, tanto ci sarà comunque, no? Allora potete rispondere che le indicazioni nazionali una cosa buona hanno, pongono degli obiettivi, non impongono agli insegnanti come debbano raggiungere questi obiettivi. Ho nominato Luca Serianni, nomino un allievo di Luca Serianni, Riccardo Gualdo, che in un convegno del 2013 invoca il potenziamento della didattica dell'italiano nella scuola, lo sto citando, attraverso strumenti grammaticali più leggeri e amichevoli, ispirati al modello delle migliori grammatiche per stranieri. E se gli strumenti grammaticali che le case editrici ci mettono a disposizione non sono leggeri, li facciamo diventare leggeri noi. Prendiamo, allora la grammatica deve diventare uno strumento di riferimento, deve diventare uno strumento di consultazione. Noi dobbiamo conoscere perfettamente la grammatica, noi la dobbiamo conoscere. Su questo è inutile che io prenda, scusate mi tolgo la giacca perché è inutile che io nasconda la verità, la verità è che qui dentro bisogna che tutti, tutti noi conosciamo a memoria la grammatica di Serianni e se magari conosciamo anche quella di Renzi, Salvi e Cardinaletti è meglio ancora. Ma ai nostri studenti no, ai nostri studenti quel materiale grammaticale deve arrivare già manipolato da noi, che è quello che si fa nella didattica dell'italiano a stranieri. Cambio prospettiva, finora vi ho parlato di storici della lingua italiana e grammatici, Serianni è un suo allievo. Adesso cambio prospettiva, vi faccio vedere come la pensano i glottodidatti, no? Perché bisognerà pur sentire che cosa dicono loro. Allora ne nomino uno molto famoso, Paolo Balboni, che in un suo libro intitolato Le lingue di Babele dice l'educazione linguistica è un processo unitario che include l'intero ventaglio di lingue che lo studente deve acquisire o perfezionare, lingua materna, seconda, straniera, classica e per gli immigrati anche lingua etnica. Ma sebbene nella mente dello studente questo processo sia unitario, la riflessione teorica in glottodidattica, la scienza che studia l'educazione linguistica o se preferite la linguistica educativa e la formazione metodologica degli insegnanti sono andate avanti per decenni su due binari paralleli. Da un lato gli insegnanti di italiano e di lingue classiche, dall'altro quelli di lingue stranieri. Invece la mente che deve trarre profitto dal lavoro dei vari docenti, delle varie lingue, cioè la mente degli apprendenti, è una sola, è una sola. Allora secondo me se l'insegnamento dell'italiano procede per esempio in collaborazione con l'insegnamento della lingua straniera, in collaborazione con il lavoro che fa la collega o il collega di inglese o non so di quali altre lingue straniere moderne, secondo me tutto si rende più veloce. Preciso, non sto dicendo che la grammatica non serve, la grammatica serve moltissimo, ma sapete a che cosa serve? Serve a rendere più veloce tutto dopo. La riflessione grammaticale è utilissima perché sistematizza e velocizza, ma prima della riflessione grammaticale bisogna insegnare la lingua. anche qui vorrei chiarire il concetto con un altro esempio, con un altro esempio. Anzi facciamo una cosa, prima dell'esempio vi dico una cosa sempre di Serianni, Serianni in un articolo dal titolo parlante, Insegnare l'italiano oggi qualche anno fa diceva, vedeva la distinzione fra la didattica dell'italiano L1 e la didattica dell'italiano L2 e dice un momento fondamentale della comunicazione linguistica è rappresentato dalle infinite occasioni che abbiamo di dire di sì o di no, oltre che con i due avverbi olofrastici fondamentali, sì e no, si chiamano avverbi olofrastici perché in realtà non sono avverbi, no, sono profrasi, sono parole che sostituiscono un'intera frase, quando io dico hai mangiato sì o no, quello che dico è ho mangiato o non ho mangiato. Ecco però noi ricorriamo abitualmente a una serie di soluzioni variamente connotate, affermazione energica, altro che affermazione attenuata, penso di sì, negazione polemica, ma quando mai? Continua Serianni, un nativo italiano sa benissimo ad esempio quando si usano come no e perché no, due modalità affermative solo superficialmente simili, che oltretutto si pronunciano con una diversa curva intonativa. Invece per uno straniero è importante sapere che come no rappresenta una vivace replica a un'affermazione dell'interlocutore, mi dicono che non ti sei preparato bene, come no? Mi sono preparato benissimo. Oppure l'energica risposta a una domanda per dissipare un dubbio, ma sembra che tu non ti stia divertendo, come no? Mi sto divertendo moltissimo. Invece perché no è un sì attenuato, no? Che dite stasera andiamo a mangiare una pizza? Perché no? Non è lo stesso sì. Ecco. Hola, il mio maestro queste cose le ha dette qualche anno fa, non so se le ripeterebbe oggi, cioè non so se direbbe oggi ma queste cose le dobbiamo insegnare soltanto ai ragazzi stranieri, perché a me sembra che le sfumature sui vari modi di rispondere sì e sui vari modi di rispondere no si siano appiattite, no? Si dice esatto e ok, punto. Quindi forse sarebbe utile parlare della lingua in atto anche cogliendo l'occasione di doverlo fare per i nostri studenti stranieri miglioriamo anche l'italiano dei nostri studenti italiani. Ma ecco la domanda che vorrei farvi e che mi sono fatto io è questa. Per qualunque nostro studente italiano o non italiano è più importante saper riconoscere una frase subordinata temporale o un complemento di tempo o è più importante saper collocare un fatto nel tempo? Per un apprendente italofono o non italofono è più importante saper articolare un rapporto di causa-effetto o è più importante saper riconoscere una frase temporale e un complemento di causa? Una subordinata temporale e un complemento di causa. Io personalmente propendo per la soluzione pragmatica è più importante che sappiano articolare un rapporto di causa-effetto e non riconoscere o studiare la proposizione causale, è una proposizione subordinata nella quale viene espressa la... vabbè insomma avete capito, viene espressa la causa eccetera eccetera.